Allora, al Ponte della Scafa abbiamo visto le ultime problematiche, che posizione prende Lega? Visto che già a gennaio avevate chiesto domande, avete anche chiesto di aprire un'indagine tecnica? Sicuramente è una posizione molto critica, perché come abbiamo tutti visto è bastato del vento, nemmeno tantissimo forte, per far crollare quello che era il parapetto. Quindi una situazione di instabilità che ci preoccupa moltissimo. A breve farò un'interrogazione parlamentare per sapere lo stato dell'arte e dei lavori. Invece per quanto riguarda il viadotto dell'aeroporto? Ovviamente fare una commissione con lavori pubblici del Senato, con i commissari e fare un sopralluogo, perché la situazione è veramente preoccupante. Poi io non so voi, ma io non ho saputo più nulla, dovranno iniziare i lavori, ma ad oggi è tutto fermo. Sia come Lega, sia come esponente politico locale mi prenderò la responsabilità di portare chi di dovere sul territorio per risolvere il problema in maniera definitiva.